La creazione. In principio Dio creò il cielo e la terra. La terra era in forme e deserta e le tenebre ricoprivano l'abisso e lo spirito di Dio aleggiava sulle acque. Dio disse sia la luce e la luce fu. Dio vide che la luce era cosa buona e Dio separò la luce dalle tenebre. Dio chiamò la luce giorno, mentre chiamò le tenebre notte e fu sera e fu mattina, giorno primo. Dio disse sia o un firmamento in mezzo alle acque per separare le acque dalle acque. Dio fece il firmamento e separò le acque che sono sotto il firmamento dalle acque che sono sopra il firmamento e così avvenne. Dio chiamò il firmamento cielo e fu sera e fu mattina, secondo giorno. Dio disse le acque che sono sotto il cielo si raccolgano in un unico luogo e appaia l'asciutto. E così avvenne. Dio chiamò l'asciutto terra, mentre chiamò la massa delle acque mare. Dio vide che era cosa buona. Dio disse la terra produca germogli, erbe che producono seme e alberi da frutto, che fanno sulla terra frutto con il seme, ciascuno secondo la propria specie. E così avvenne. E la terra produsse germogli, erbe che producono seme, ciascuna secondo la propria specie, e alberi che fanno ciascuno frutto con il seme, secondo la propria specie. Dio vide che era cosa buona. E fu sera e fu mattina, terzo giorno. Dio disse ci siano fonti di luce nel firmamento del cielo per separare il giorno dalla notte, siano segni per le feste, per i giorni e per gli anni, e siano fonti di luce nel firmamento del cielo per illuminare la terra. E così avvenne. E Dio fece due fonti di luce grandi, la fonte di luce maggiore per governare il giorno e la fonte di luce minore per governare la notte e le stelle. Dio le pose nel firmamento del cielo per illuminare la terra e per governare il giorno e la notte, per separare la luce dalla tenebra. Dio vide che era cosa buona e fu sera e fu mattina, quarto giorno. Dio disse le acque brulichino di esseri viventi e uccelli volino sopra la terra davanti al firmamento del cielo. Dio creò i grandi mostri marini e tutti gli esseri viventi che guizzano e brulicano nelle acque secondo la loro specie, tutti gli uccelli alati secondo la loro specie. Dio vide che era cosa buona. Dio li benedisse. Siate fecondi e moltiplicatevi e riempite le acque dei mari, gli uccelli si moltiplichino sulla terra. E fu sera e fu mattina, quinto giorno. Dio disse la terra produca esseri viventi secondo la loro specie, bestiame, rettili, animali selvatici secondo la loro specie. E così avvenne. Dio fece gli animali selvatici secondo la loro specie, il bestiame secondo la propria specie, tutti i rettili del suolo secondo la loro specie. Dio vide che era cosa buona. Dio disse facciamo l'uomo a nostra immagine, secondo la nostra somiglianza. Domini sui pesci del mare e sugli uccelli del cielo, sul bestiame, su tutti gli animali selvatici e su tutti i rettili che strisciano sulla terra. E Dio creò l'uomo a sua immagine, a immagine di Dio lo creò, maschio e femmina li creò. Dio li benedisse e Dio disse loro siate fecondi e moltiplicatevi, riempite la terra e soggiogatela, dominate sui pesci del mare e sugli uccelli del cielo e su ogni essere vivente che striscia sulla terra. Dio disse ecco io vi do ogni erba che produce seme e che è su tutta la terra e ogni albero fruttifero che produce seme saranno il vostro cibo. A tutti gli animali selvatici, a tutti gli uccelli del cielo e a tutti gli esseri che strisciano sulla terra e nei quali è alito di vita, io do in cibo ogni erba verde. E così avvenne. Dio vide quanto aveva fatto. Ed ecco, era cosa molto buona. E fu sera e fu mattina. Sesto giorno. Così furono portati a compimento il cielo e la terra e tutte le loro schiere. Dio nel settimo giorno portò a compimento il lavoro che aveva fatto e cessò nel settimo giorno da ogni suo lavoro che aveva fatto. Dio benedisse il settimo giorno e lo consacrò perché in esso aveva cessato da ogni lavoro che egli aveva fatto creando. Queste sono le origini del cielo e della terra quando vennero creati.